Buongiorno a tutti amici, BetItaliaWeb, nuova giornata, nuova puntata, anche oggi vediamo 5 free pick, anche ieri siamo andati alla grande, vediamo cosa si aspetta oggi, c'è la Premier League, c'è il big match Tottenham-Celsea che chiude la 22esima giornata del campionato inglese, ne riparliamo dopo in free pick con due giocate, si continua a giocare anche in Primera Liga Portoghese, oggi ci sono 4 partite, due sfide in Turchia, due sfide nella Superliga danese, abbiamo anche la Serie C con Fano Carpi al via tra poco e con Mantua Padova alle 17.30, infine c'è l'ultimo quarto di finale della Coppa del Re in Spagna con Betis Siviglia contro Atletic Bilbao e anche di questa partita, ne parliamo dopo. Per il calcio vi segnalo anche i mondiali per club, aprono Tigres contro Ulsan Hyundai in campo in questi minuti e poi più tardi Al Dunahil contro Al Ali, è il primo turno equivalente ai quarti di finale della FIFA Club World Cup 2020 posticipata nel 2021 per questioni pandemiche. Si gioca in Qatar, il primo match mette di fronte il club messicano campione del Nord America e quello sudcoreano campione d'Asia. Chi vincerà dovrà affrontare domenica 7 febbraio i campioni sudamericani del Palmeiras. La seconda partita vede invece la squadra catariota padrone di casa e campione del Qatar Stars League contrapposta agli egiziani campioni d'Africa dell'Al Ali e chi vincerà in questo caso affronterà invece il Bayern Monaco campione europeo. C'è anche l'Eurolega di basket, oggi ci sono però solo due partite, Barcellona-Efes e Valencia-Sesca-Mosca dopo i rinvii di Zalgiri-Stella Rosse e Maccabi-Chinchi. Milano gioca domani in trasferta a Lione, ovviamente ne parleremo, oggi c'è anche il recupero del quindicesimo turno di Serie A con Varese contro Brindisi. Ok, KHL con due partite, si inizia alle 15 con Ufa-Dinamoriga, a noi però interessa Ska contro Jaroslava alle 17.30 e ne parliamo in free pick. Infine Volley Champions League femminile, ultima giornata di match per la Faggia Gironi, tra le italiane in capo segnaliamo la Savinio del Bene Scandici impegnata alle 17 contro il Rzesdov sul campo neutro di Shevrin, le ragazze anche di Buster Sizio sono attese dalle padrone di casa del Palmberg alle ore 20, impegno in trasferta anche per Ligor, Gorgonzola, Novara a Pollice in Polonia. Vediamo i risultati di ieri perché continua la grande questa settimana, finora quasi perfetta 12-1 sulle 13 pick che abbiamo dato da lunedì a mercoledì, altro il Green ieri in free pick, bene il raddoppio in Premier League con City e Leicester che questa volta non ci deludono, ma anche in Germania abbiamo le vittorie di Wolfsburg e Lipsia in Coppa. Ottimo anche il lavoro di Insider che nel basket incassa la vittoria della Virtus Bologna già avanti nel primo tempo e anche la vittoria della Dynamo Moscow in KHL di Hockey. Arriviamo a più 1.255 in questo primo mese della stagione 3 del nostro podcast e nel complesso dal luglio 2019 a oggi ci avviciniamo ai 15k. Nelle tips in mercato vince il Bradford, andiamo in cassa, abbiamo invece il rimborso in casa col pareggio in rimonta del Lens contro il Marsiglia. Vi volevo far vedere anche il recente rendimento di D'Artagnan, ieri in serata purtroppo ha aggiunto nel servizio VIP, nel servizio premium, nel VIP di Batting Maniac l'Aston Villa, purtroppo dico perché questo ha interrotto una striscia positiva di 15 pic del nostro D'Artagnan, come vedete 14 casse e un rimborso. D'Artagnan che cercherà di rimettersi in moto oggi, ci dà 3 giocate e speriamo di tornare a vedere tanto Belverde. Dobbiamo dire anche i risultati di NBA, per me 3-5 questa notte, la tripla sulle ProBets salta per i soli 10 punti messi a referto ieri sera da Chris Paul, tra l'altro è l'unico come vedete anche in grafica che ho confermato anche in singola ed è l'unico se non sbaglio che non entra, anzi in verità sono andato a controllare Doncic, la linea base era 26 e mezzo, si è fermato a 26 o era 27 e mezzo, beh è arrivato lì. Gordon l'ha superata, Eric Gordon avrebbe superato anche la linea punti base, io ho usato le 3 linee basse purtroppo CP3 ci ha fregato. Troppi punti ad Atlanta, non va l'under nella sfida contro i Mavericks che sono finalmente tornati alla vittoria, era anche la giocata principale. Ok invece la pick statistica sul primo tempo dei Bucks, Bucks che poi vincono e anche in modo abbastanza agevole contro i Pacers, così come vincono i Knicks che ci fanno così chiudere la doppia. Altra grande prova di Joel Embiid che ci manda in cassa con la Pro Bet sui punti, Butler invece si ferma a 19, lo avevamo giocato over 20 e mezzo purtroppo. Infine la combo sui Suns questa volta non va, a New Orleans vincono i Pelicans anche in una partita da over. Non è andata bene neanche nel college ieri 0-3, risultati davvero assurdi, penso per esempio a Houston che ha perso in East Carolina, davvero assurdo questo, ha perso anche Virginia Tech, ha perso Creighton in casa contro Georgetown, altro risultato imparabile e perfino Villanova è stata schiantata a St. John's. Con questi risultati non se ne esce vivi. Venendo a noi io avevo giocato su altre partite in verità. Alabama che ha vinto, anche se con meno punti rispetto a quanto prevedevo, l'avevo giocato in doppia con Florida. Florida che invece è tra le squadre che hanno beccato un brutto upset, hanno perso in casa contro i Gamecocks, South Carolina inizia a odiarla. Ancora più assurdo Oklahoma State che perde di tre, noi l'avevamo presa più due e mezzo in doppia con Virginia vincente e Virginia è andata a vincere a NC State, quindi c'è girata davvero male con le due doppie. È andata decisamente meglio in NHL, i Lightning hanno stracciato i Red Devils per 5-1 e quindi abbiamo preso la pack line. Partita ad alto punteggio vinta dai Bruins a Philadelphia, qui invece prendiamo la quota golosa 2-21 con X2 e over a Philadelphia. Vediamo il programma di oggi, abbiamo 5 partite NBA al Via con Atlanta contro Utah. La nottata sarà chiusa dal Big Match a Ovest, Los Angeles Lakers contro Denver Nuggets, Lakers che aprono favoriti con meno 5,5 punti di handicap. Nel college oggi poca roba, ruba comunque la scena al Big Match di Big Ten, quello tra Iowa ottava nel ranking nazionale e Ohio State che è nona. Davvero una bella sfida che sicuramente analizzerò nei dettagli per i nostri VIP del betting maniac. C'è anche Gonzaga in campo, miglior squadra dell'intera nazione, non dovrebbe avere problemi a vincere a Pacific. In NHL otto partite, dovevano essere in verità undici ma tre sono state rinviate e quindi oggi spazio all'NHL anche nelle free peak su betting maniac che troverete questa sera. C'è il link qui sotto, iscrivetevi se non lo avete già fatto e attivate le notifiche. Tra le partite da non perdere vi cito Toronto-Vancouver subito al via, assieme a New York Rangers contro Washington Capitals, c'è anche un nuovo scontro tra Winnipeg e Calgary. Rimaniamo in tema sport usa perché c'è la terza puntata delle nostre preview del Super Bowl, oggi parliamo di Pro Bet, prestazione giocatori. Iniziamo ovviamente dai quarterback, ne abbiamo già accennato un po' ieri, oggi approfondiamo un po' il discorso perché sono ovviamente Patrick Mahomes e Tom Brady i giocatori più attesi, sono anche i favoriti per il titolo di MVP. Mahomes a 1,80, Brady a 2,90. 30 dei 54 Super Bowl MVP sono stati proprio quarterback, compreso lo stesso Mahomes lo scorso anno, mentre l'anno prima era toccato invece a un wide receiver, tra l'altro in quota bella alta a 20, ovvero Edelman. Nel 2018 un altro quarterback, Nick Foles, ricorderete, e l'anno prima nel 2017 è stato il quarto e ultimo titolo di MVP al Super Bowl per Tom Brady. Ricordiamo che Brady gioca per la decima volta il Super Bowl. In lavagna per l'MVP di questo big game abbiamo molto indietro anche Tyrell Hill e Travis Kelce a 11 volte la posta entrambi. Dalle agenzie del Nevada filtra la notizia di quasi il 40% di giocate su Mahomes come MVP, 22,5% per Brady, mentre Hill e Kelce si spartiscono il resto intorno al 15% a testa, un pochino più Hill rispetto a Kelce. Mahomes a 1,65, vi dico che è anche il favorito contro Brady a 2,20 per essere il quarterback che lancerà più yard in questo Super Bowl, anche perché Tampa Bay dovrebbe puntare un pochino più sulle corse in attacco rispetto a Kansas City. I Chief invece si troveranno contro la miglior difesa su corsa, appunto quella di Tampa, che però è abbastanza modesta sui lanci. Vi dico che Mahomes ha lanciato 462 yard con anche 3 TD pass in week 12 a Tampa Bay, vittoria di 3 dei Chief, lo dicevamo anche ieri. Brady in quell'occasione rispose con 345 yard, ma anche qualche intercetto. Brady ha una media di 286,7 yard lanciata in carriera ai playoff, Mahomes fa un pochino meglio, 290 yard con un 73,5% di lanci completati e un QB rating di 90,1 che ai playoff non è male. Brady però in questa stagione ha avuto più protezione dalla propria defensive line, ha subito meno sec rispetto a Mahomes, però ai playoff questo trend è cambiato. Brady ha subito 5 sec in tre partite, tre dei quali nella prima contro Washington e il pass rush di Kansas City può essere devastante, può fare male. Interessanti anche le quote su un touchdown di Mahomes, un touchdown improprio su corsa di Mahomes che si gioca a 3,75. Mahomes è andato già a segno su corsa al division round e anche al Super Bowl dello scorso anno. Con Brady invece è un po' più difficile questa giocata sale a 4,50. Ieri abbiamo detto che potrebbe essere una partita da over 6,5 touchdown totali e occhio anche ai touchdown pass, sia Brady che Mahomes hanno una linea di 2,5 touchdown pass, Mahomes over si gioca a 1,80 e per me li farà. Visto che abbiamo anche detto quanti pochi field goal calcia Kansas City, Tampa tra l'altro è terz'ultima come TD pass concessi di media, ne concede 1,8 a partita ai quarterback avversari e tra l'altro ne ha messi a referto 3 anche Aaron Rodgers nonostante la sconfitta dei suoi Packers lo scorso turno. Più difficile per Brady raggiungere l'over 2,5 TD pass, lo vediamo anche dalla quota 2,40. Per me è più facile vedere Brady con almeno un intercetto, cosa che è capitata 15 volte in 19 partite quest'anno e tra l'altro Brady ha subito almeno un intercetto in 4 degli ultimi 5 Super Bowl. Non solo quarterback, parliamo anche degli altri ruoli, abbiamo detto della solida difesa su corsa di Tampa Bay, la coppia di running back di Kansas City ovvero Clyde, Edward e Larry e Darrell Williams potrebbe faticare, mi aspetto un utilizzo maggiore invece dai running back di Tampa Bay, Leonard Fournay e Ronald Jones secondo. Sono molto utili anche in ricezione tra l'altro entrambi. Occhio quindi all'over 3,5 ricezioni in particolare di Fournay che sul corto yardaggio potrà essere molto utile per togliere le castagne dal fuoco a Brady, Brady che però tra i wide receiver dovrebbe ritrovare Brown oltre a Chris Goodwin e anche a Gronkowski. Per me però il wide receiver più importante in questa sfida sarà Mike Evans che ha anche una linea over under yard in ricezione più bassa di Goodwin. Evans si gioca a 63,5 o Goodwin a 74,5. In questo scenario potrebbe tornare a calare invece il rendimento di Scottie Miller tra i protagonisti un po' sorpresa contro i Packers, questa volta potrebbe rimanere sotto le 20,5 yard in ricezione. Dall'altra parte li abbiamo già citati, ci sono ovviamente Tyreek Hill e Travis Kels a spartirsi il grosso del lavoro in ricezione per Kansas City. Kels ha una linea di 97,5 yard in ricezione, quindi due linee davvero enormi per due giocatori nella stessa squadra. Sono però giustificate perché in week 2, lo abbiamo detto, Tyreek Hill è stato devastante contro Tampa Bay, 269 yard in ricezione per lui, 82 anche per Kels. Solo 37 yard su corse invece in quell'occasione per El Arie e Running Back, lo abbiamo detto, potrebbe stare basso anche in questa sfida. Per Tampa invece Goodwin fece meglio, 97 yard, Evans si fermò a 50 in quell'occasione, ma a fare la differenza vera per Tampa fu Gronkowski con 106 yard, anche perché come dicevo ieri Kansas City ha una buona difesa però fatica a contenere i tie-hand avversari, è tra le squadre che concedono più yard ai tie-hand appunto. Veniamo ora alle free pick che sono 5, iniziamo dal calcio, dalla Premier League con D'Artagnan che ci dà addirittura due idee sul big match Tottenham-Celsea, l'idea principale è l'under 2,5 a 1,84, stake 1, stake standard e poi facciamo mezzo stake anche sulla X a 3,52. Alli e Kane sono fuori per gli Spurs che dovranno cercare di contenere i blues nel big match di Premier, ci dice D'Artagnan, è un Chelsea non sempre infallibile in attacco, infatti arriva da 4 under di fila. A novembre a campi invertiti è finita 0-0 Stanford Bridge. Anche oggi D'Artagnan non vede tanti gol in questo big match e gli frulla in testa anche quest'altra partita da pareggio, come detto è successo anche all'andata, D'Artagnan ci consiglia di valutarlo a 3,52 ma ovviamente a stake basso perché la giocata principale rimane l'under oggi. D'Artagnan ci ha dato anche una giocata di Coppa del Re, Betis contro Atletic Bilbao in Spagna, gol gol a 1,85, i baschi arrivano da 7 gol gol di fila tra campionato e Coppa e in campionato in casa hanno dominato 4-0 il Betis del precedente. Questa volta però siamo ai quarti di finale di Coppa del Re e si gioca allo stadio Benito Villa Marin con i padroni di casa anche in un buon momento di forma con 6 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 8 partite tra campionato e Coppa. In Coppa del Re tra l'altro il Betis ha passato il turno contro il Real Sociedad in una sfida da gol gol, tra l'altro il sesto gol gol nelle ultime 9 partite anche per quanto riguarda il Betis, quindi andiamo con una sfida con entrambe a segno. Spostiamoci in KHL con Insider che ci dà una giocata su SCA-San Petersburg contro Locomotiv Yaroslav, vittoria dello SCA a 1,72. La sfida tra la seconda e la quarta in classifica a ovest, lo SCA ha giocato una partita in meno ma non può fallire in casa dove è chiamata a rilancio dopo la sconfitta in trasferta a Mosca contro la Dinamo. Lo Yaroslav dal canto suo arriva da due sconfitte e ha perso 4-2 nell'ultimo viaggio qui a San Pietroburgo. A noi andrebbe bene anche una vittoria dello SCA ai supplementari, quindi speriamo che i padroni di casa possano vincere questo importante big match del gruppo Ovest di KHL. E chiudiamo ancora con Insider che ci dà una giocata di volley questa volta. Kemic Polis contro Novara, over 177,5 punti a 1,72. Kemic gioca in casa, è un set potrebbe anche strapparlo per un over punti su una linea che è alla portata. Novara ha sempre vinto finora in questa competizione, però le ultime tre partite sono state tutte da over. Il Kemic è in una buona forma dopo le ultime due vittorie in Champions e a novembre ha perso contro Novara ma si è arresa solo al quinto set in una partita ovviamente da over. Va bene, siamo arrivati alla fine, ecco il riassunto delle cinque giocate ufficiali che vi abbiamo dato oggi, continuate a seguirci in particolare su Betting Maniac se siete interessati alle pick degli sport americani che usciranno nel tardo pomeriggio in prima serata, come detto in free pick oggi ci sarà la NHL. Io vi ringrazio dell'attenzione, vi auguro una buona giornata, fate buone scommesse ma puntate sempre con la testa e noi ci ritroviamo domani, stavo dimenticando, ultima puntata della settimana, c'è ovviamente lo studio di D'Artagnan su tutte le partite di Serie A e le giocate a coprire tutto il weekend nei maggiori campionati di calcio in Europa, c'è anche l'Eurolega, daremo le giocate ufficiali del Super Bowl, insomma tanta roba da non perdere, io vi saluto a domani, ciao ragazzi!